Eccoci, passiamo la parola a Damiano Fusaro. Io tornerei su Venezia, sulla capacità di produzione di Venezia di queste navi, perché non è che Venezia si abbia saputo anni prima che c'era, né aveva una flotta naturalmente organizzata in quel momento, perché era abbastanza tranquilla, possedeva territori del vecchio impero greco e quindi questa volontà dei musulmani di conquistare un po' alla volta tutto l'Occidente è quello che stimola e mette in guardia tutte le repubbliche, Venezia, Genova, poi l'impero spagnolo, impero spagnolo che era più potente di quello austro-ungarico, anche se l'impero era lo stesso, cioè l'Austria e Ungheria che abbiamo poi più avanti non era certamente in quel momento pari alla Spagna che aveva scoperto l'America e si avvantaggiava di tonnellate di oro. Ma torniamo al nostro arsenale. Venezia riesce a fare qualcosa di incredibile, cioè riesce a costruire talmente velocemente queste navi, queste galee, in tempi velocissimi. Si parlava prima della Porto Spagnolo, la Spagna arriva tardi, primo perché vuole aumentare il prezzo e ricordiamoci che la Spagna ciclicamente è sempre in bancarotta e non per niente ha bisogno anche… Ma perché è in bancarotta? Proprio per le costruzioni. E quando costruisce le navi per andare a aiutare la Lega Santa ci mette tantissimo tempo, cioè l'arsenale a Barcellona non riesce a costruire navi così velocemente come fa Venezia. Però sull'Epanto, prima di adentrarci poi nello specifico della battaglia, come già hanno fatto i doti ospiti di questa sera, c'è da dire che l'Epanto è quella battaglia che resta proprio nell'immaginario. È una battaglia quando si parla di scontro di civiltà, di mondi diversi, spesso viene accostata, un po' per la propaganda, un po' per la narrazione che viene fatta, alla battaglia di Poitiede 732, ma anche se andiamo alla storia antica, pensiamo a Maratona, la battaglia fra i persiani, fra un impero contro le città-stato greche. E se vogliamo il sacrificio di Marcantonio Bragadina a Famagosta, che è quello che permette un anno di temporeggiare, di resistere davanti all'avanzata turca, è come il sacrificio delle termopili, di 300 spartani alle termopili con le otte. Quindi capiamo come viene raccontata questa cosa. Poi sugli esiti in realtà, se andiamo a vedere, e lo vedremo nel resto della puntata, spesso si dice tanto rumore per nulla, però quel concetto di scontro fra mondi diversi, la propaganda che si crea su queste battaglie, e l'Epanto è l'esempio incredibile, sono testimonianza di come la narrazione storica incida a volte più del fatto stesso. Perché se noi ragioniamo, la flotta turca era già quasi ritirata, e avevano battagliato lungo le altre isole, ed erano anche un po' afflosciati da questi sforzi. Siamo a ottobre, poco dopo terminano tutti gli scontri, e durante l'anno i turchi riescono comunque a ricostruire una flotta. Quindi in realtà l'effetto in sé è poco, ma la narrazione che si crea da questa battaglia è incredibile. Come viene raccontato, appunto, la battaglia fra due mondi diversi. Posso dire qualcosa sulle navi che mi interessa molto? Sì, sull'arsenale, prego. No, sulle navi. I veneziani erano mercanti, sapevano da un lato quanto costava mantenere una nave oltre che costruirla, perché tu avevi 160-180 avvocatori a bordo, tre per Remo con la voga allo scaloccio, eccetera, 26 banchi fai presto a fare i conti, e più gli armati in corsia e sotto. Quindi loro avevano un arsenale organizzatissimo che era in grado di conservare le barche o di costruirle in maniera velocissima, ma la flotta non era sempre 100 navi in acqua, perché sarebbe stata una cosa costosissima anche come mantenimento. 400 persone a nave, il per cento fa 40.000 persone a cui dare il soldo e la paga. Non c'era la chimica di oggi a salvare lo scafo delle navi in immersione. Aveva però organizzato la costruzione navale in arsenale con la prima catena di montaggio della storia, per cui facevano crescere nelle foreste e nei boschi della Serenissima, destinati a questi, i fagi per fare i remi, li stortami mettendo in sagoma le roveri con la forma delle ordinate e delle aste di prua delle galee, in maniera che arrivavano in arsenale una produzione organizzata e nei magazzini di stortaggio della Serenissima tu avevi sempre pronte le 100 galee da mettere in acqua. Non così la flotta turca, dove anche se c'era la tradizione navale della costruzione bizantina, perché a Costantinopoli c'erano le navi bizantine che erano di derivazione dalle trireme romani e dalle navi romane, c'era una costruzione navale organizzata. Quindi quando hanno preso nel 1453 Costantinopoli si sono diciamo marinizzati e hanno imparato e l'arsenale bizantino non forte come quello veneziano c'era e lo hanno potenziato moltissimo, perché ci sono accorti proprio col tentativo di prendere Malta negli anni 60 del 500, non erano riusciti i 30 anni prima, quanto contasse invece la potenza e la superiorità navale sul mare. La differenza su questa cosa, quindi hanno messo in piedi con le enormità di energie umane e di reperimenti delle materie prime che poteva avere l'impero turco in giro per la sua estensione enorme, avevano messo in piedi un arsenale che però faceva navi più grezze e meno di qualità, ecco perché le facevano andare a vela, non erano in grado di far crescere le piante in sagoma per poter fare con i legni più robusti e più leggeri e più adatti, costruivano con quello che c'era. Certo, perché... Ecco perché erano meno di qualità. Se noi pensiamo con trave di chiglia lungo 20-30 metri, nasce, è un ramo che viene... 45 metri, in tre pezzi, ma 45 metri negale. E' un ramo di un albero che poi si arriverà, vuol dire che è un albero piantato almeno 30 anni prima. 300 anni prima un travo di chiglia di oro. In qualche caso anche 300 anni prima. Le ordinate no 30, ma li mettevano in crescita, cioè... Certo, allora... Tutto la produzione del legname era mappata a Venezia, dove potevi andarlo a prendere e portarlo in città, in una città che aveva soltanto un po' di melma e un po' di acqua. Tutto il resto lo recuperava. Allora, l'esperienza di questa catena di montaggio noi l'abbiamo già 370 anni prima, con la terza crociata, con la quarta scrociata, cioè quella del 1200. Cosa vuol dire? Che il doge Dandolo ospita i crociati che sono francesi, le crociate partono sempre dalla Francia, la prima, la seconda, la terza crociata, Inghilterra con Riccardo Cuor di Leone, e vengono a Venezia e chiedono di avere delle navi, perché sono passati per Genova e i genovesi non erano in grado di produrre tante navi in così poco tempo. E Dandolo li porta nell'arsenale e fa vedere un trave di chiglia messo giù, e poi dopo un paio di giorni torna e questi francesi scoprono che c'è già lo scafo della nave. È già pronto. Perché costruivano tutti i pezzi, erano già predisposti, e quindi bastava soltanto montarli. E poi l'armatura della nave, passando davanti all'arsenale, veniva armata degli alberi, delle umene, di tutto, e quindi nella terza e quarta crociata hanno costruito oltre 400 navi in un anno. Cosa vuol dire? Che hanno costruito più di una nave al giorno. Entrati, anzi, di più, perché naturalmente la cottina di montaggio ha avuto un tempo di organizzazione, e dopodiché producevano una nave, una nave e mezza ogni giorno. E allora partono per la quarta crociata che poi è quella che finirà a Costantinopoli e i veneziani si porteranno via i cavalli di San Marco, no? E tante altre cose. Sono stati dati impegno, eh? Sì, il problema è che quello che dava impegno non poteva dire di no. Su questo siamo d'accordo, allora siamo arrivati a un accordo. Facciamo un'altra puntata, va bene. Adesso passiamo a un'altra, perché abbiamo sei contributi, e quindi chiediamo i nostri telespettatori di avere un po' di pazienza, e vediamo la figura di Pio V, che è un Papa un po' strano. Un Papa che è un grande inquisitore, e che ha il potere nei confronti di tutti i regnanti dell'epoca, perché lui può aprire un'inquisizione. E sappiamo che cos'è l'inquisizione. Allora, passiamo al secondo contributo. Papa Pio V, il trionfo dell'inquisizione. Riconciliarsi mai, non mai pietà. Sterminate chi si sottomette, sterminate chi resiste, perseguitate a oltranza, uccidete, ardete, tutto vada a fuoco e a sangue. Sono queste le parole che si leggono in una delle lettere di Papa Pio V, inviate a Filippo II di Spagna per invitarlo a intervenire nelle Fiandre per reprimere i protestanti. Alla fine, i morti massacrati dai cattolici spagnoli saranno 17.000. Ma chi era Papa Pio V, oggi santo, eletto al soglio di Pietro nel 1566? Michele Ghislieri fu Papa con il nome di Pio V dal 1566 al 1572. Venerato come santo dalla Chiesa Cattolica, fu canonizzato il 22 maggio 1712 da Clemente XI. Proveniente da famiglia di origini modeste, entrò a 14 anni nell'Ordine dei Dominicani. Di formazione teologica era molto solido, insegnò teologia in vari conventi dell'Ordine, ma fece carriera come inquisitore e si distinse per il suo zelo caratterizzato da una forte sete di martirio nella caccia e nella lotta agli eretici. Nel 1550 era stato inquisitore a Como e poi a Bergamo, ma la carriera del Ghislieri culminò sotto il papato di Paolo IV quando fu nominato grande inquisitore a vita, avvenuta il 14 dicembre 1558. Era l'epoca dei processi, delle torture e dei roghi. Se si veniva anche solo sospettati si finiva davanti al tribunale. Bisognava decidere se abbiurare oppure confermare la propria posizione. In quest'ultimo caso si passava nelle mani di esperti aguzzini che in modo quasi scientifico procedevano alle più sofisticate torture che dovevano essere portate con cautela senza uccidere e senza spargere sangue ma che doveva infliggere dolori insopportabili. Banalmente si poteva procedere allo schiacciamento dei pollici tra due tavolette legando poi le mani del malcapitato dietro la schiena e con una corda lo si appendeva al soffitto con dei pesi legati alle caviglie. Ma c'erano supplizi anche peggiori che portavano la vittima stremata a confessare meglio una morte rapida per impiccagione o sul rogo piuttosto che sofferenze atroci. Con la scusa della fede si era messo in atto una pulizia etnica su grandissima scala tante esecuzioni e tanti beni sequestrati i tribunali dell'inquisizione erano ovunque e la popolazione viveva nel terrore. In questo modo la chiesa e i regnanti compiacenti mantenevano il potere e il controllo. Chi la pensava diversamente e non si sottometteva veniva eliminato. Questa era una parte del lavoro del santo Papa Pio V. L'elenco delle vittime bruciate sul rogo impiccate o decapitate è lunghissima. Con Pio V il santo uffizio venne subito riorganizzato e affidato a due ex fedelissimi di Paolo IV Bernardino Scotti e Scipione Rebiba. Nel 1571 Papa Pio V istituì la congregazione dell'indice che assorbiva una parte delle competenze del santo uffizio in materia di libri proibiti. Furono questi anni di intensa persecuzione inquisitoriale in tutta Italia con l'agnentamento definitivo di quelle che restava della riforma protestante nella penisola. Preoccupato dall'avanzata turca istituì con Genova Venezia e la corona spagnola la Lega Santa le cui forze riportarono la vittoria nella battaglia di Lepanto il 7 ottobre del 1571. Si dice che in quell'occasione Pio V venuto a conoscenza dell'esito della battaglia tramite una visione abbia ordinato di suonare tutte le campane di Roma a mezzogiorno. Quella vittoria tuttavia non si concretizzò come Pio V aveva sperato nella liberazione del santo sepolcro. L'anno dopo già sofferente di calcolosi fu colpito da una grave ipertrofia prostatica per la quale non accettò di farsi visitare né tantomeno curare sembra per un eccesso di pudore e che lo condusse alla morte il primo maggio del 1572. Io mi meraviglio di questa analisi diciamo di questa diagnosi di Pio V perché a quell'epoca la prostata non sapeva neanche dove fosse e eventualmente la calcolosi era una cosa immaginaria possiamo parlarne oggi ma anche oggi non è una cosa facile da curare di conseguenza sono sempre quelle scuse come è stato per Bonifacio VIII la morte di Bonifacio VIII secondo la prassi è morto di infarto la vera morte di Bonifacio VIII fu avvolto nella pece e poi nelle piume e trascinato per alatri fino alla distruzione del corpo ma questa è la storia non si può sempre raccontare ai bambini queste storie che sono tragiche e quindi rimangono sempre le storie così un po' quelle che sono belle da raccontare bravo no si raccontano delle storie belle delle storie belle insomma la descrizione di questo inquisitore sì allora Pio V fra precedenza fra Michele Ghisleri questo uomo questo individuo addirittura si diceva che mangiasse pochissimo usava solo il pane l'acqua che sotto il vestito dei papa tenne sempre il suo abito da frate dominicano insomma e appunto viene venerato come santo ma sappiamo insomma i morti che ha sulla coscienza insomma quanto ha erano morti cattivi lui era buono no i morti purtroppo fa parte dell'epoca non dobbiamo quello che l'errore che non bisogna mai fare è giudicare con la mentalità di oggi magari quello che è successo all'epoca di sicuro quando qualcuno manda a morte qualcun altro non è mai una bella cosa insomma 1500 anni prima c'era Cristo però che ha insegnato un'altra cosa un'altra cosa ma quello se lo sono dimenticato insomma poi c'è la gestione del potere un'altra cosa insomma lì sappiamo che c'era appunto un cantante locale c'è sempre sulla chiesa un marketing mai visto costruito su un poro Cristo poi appunto un conto è la fede quello che è e un altro è un'istituzione e le istituzioni devono gestire il potere come si gestisce il potere in base all'epoca nella quale si vive quindi come erano stati feroci i turchi nell'intervenire nell'ucidere da altre parti la stessa ferocia veniva gestita anche negli altri stati occidentali insomma la ferocia purtroppo era una cosa che faceva parte dell'epoca per quanto riguarda appunto la figura di Pio Quinto è una figura di un personaggio di un'intransigenza estrema addirittura c'è chi diceva che nel periodo in cui fu inquisitore a Bergamo fu sforminato il boia di Bergamo insomma una figura una figura insomma di quelle forti la frase stessa quando dice a Filippo II non bisogna avere pietà quando sappiamo benissimo che la fede cristiana è il massimo della della pietà insomma dovrebbe essere quindi queste sono un po' le incongruenze rispetto alla fede la particolarità è che in un periodo violento esercitò il potere in modo tale da mantenerlo e da riuscire a creare una lega santa che in precedenza non c'era mai stata poi questi sono risultati politici e non certo religiosi ma sappiamo che all'epoca il Papa oltre a essere una guida spirituale era prima di tutto il capo di uno stato territoriale c'è anche un fatto però c'è un fattore che il Papa allora c'era la santa inquisizione in Spagna che finirà con la conquista di Napoleone quindi questa situazione tragica della Spagna che poi dimezzerà addirittura la popolazione in vari secoli quindi la Spagna va in crisi proprio perché dentro c'è la santa inquisizione e questa inquisizione naturalmente gestita dal Papa metteva seriamente in crisi quello che era il potere del re e dell'imperatore perché doveva far conto che se il Papa diceva una cosa partiva la santa inquisizione non c'era imperatore che si potesse scansare ne abbiamo contezza per esempio con Federico Barbarossa che poi va a chiedere pietà e perdono mettendosi la cenere in testa vestito da frate che voleva recuperare perché la terra veniva data dai papi se il potere deriva da Dio e il Papa è rappresentante di Dio in terra è chiaro che il Papa ha la possibilità di dichiarare ma si chiama eredità di Costantino il lascito di Costantino prego io volevo segnalare anche un fatto che tocca anche la storia moderna relativa alla volontà di organizzare la lega santa di Pio V già Solimano il magnifico uomo molto più abile e prudente che non saggio che non se è in secondo e saggio aveva però il pieno programma di conquistare l'Italia e Roma e i veneziani nelle comunicazioni che fecero al Papa per la costituzione della lega santa gli segnalarono che fra Bari che è alla fine dell'Italia e Antivari che era Antivari erano le due bocche di ingresso al mare Adriatico e poi Golfo di Venezia dopo le campagne che abbiamo ricordato della Quarta Crociata e lì Solimano il magnifico aveva organizzato e stava organizzando non ha fatto in tempo perché è morto prima una strada di accesso per saltare l'Adriatico e arrivare direttamente a Roma imbarcandosi a Antibari quando si attraversa oggi e non si sa perché o meglio il perché questa notizia storica quando si attraversa il sud della Croazia per arrivare all'Albania Veneta al Montenegro alle bocche di Cattadro si passano sette frontiere finisce la Croazia tu passi in Bosnia c'è un pezzetto di Bosnia ritorna alla Croazia poi arrivi in Albania e poi riarrivi in Montenegro e poi riarrivi in Albania lì non tutti lo sanno ma se si va c'è un muro fortificato non c'è solo la muraglia cinese in Cina ma c'è un lungo muro fortificato diretto a evitare Ragusa che invece era Repubblica Marinara di cui non fidarsi faceva parte del mondo anche se commerciava intrallazzava diciamo sempre tanto è vero che si dice sei un raguseo quando non si sa da che parte stai a Venezia ancora lo si dice chiama raguseo lì ci sono delle muraglie difensive per il corridoio che consentiva di arrivare dai territori ottomani a prendere un pezzo di mare a Antibari per poter organizzare lo sbarco diretto su Roma questa fu una segnalazione che fecero i veneziani che quel territorio frequentavano e navigavano e ancora oggi la Bosnia ha il suo sbocco al mare la Bosnia musulmana attuale e non legata alle popolazioni virreasche e si pensa che sia stata una concessione della dismissione dell'ex Jugoslavia per cui è stato dato no quello sbocco al mare della Bosnia è quello di Solimano il magnifico e ha sempre fatto e sempre stato presudiato diciamo dalla componente islamica dalla metà del 1500 proprio per questa cosa venne segnalato dai veneziani al Papa e il Papa si preoccupò fortemente non solo di andare a conquistare Costantinopoli ma di trovarsi da Bari le truppe musulmane con l'invasione direttamente a Roma in 448 senza neanche fare il giro e dover conquistare mezza Europa direttamente e a proposito di Paolo Quinto scusi quello che diamo ai nostri telepronatori l'impressione che cos'era Roma a quell'epoca anche precedentemente e successivamente c'è lo stesso Gengis Khan che vuole arrivare a Roma addirittura Kublai Khan lo dice a Marco Polo e gli dice guarda che io prima o dopo adesso mi organizzo e poi arriveremo a conquistare Roma perché Roma era il perno del mondo in quel momento nell'immaginario della gente tutta la storia che si raccontava di Roma dai antichi romani e poi la civiltà cristiana e tutto il resto quindi era una meta ambita se conquisto Roma sarà il capo del mondo questo pensava Gengis Khan questo pensava Kublai Khan e anche altri e i musulmani di conseguenza più tardi Solimano prego a lei la borsetta si racconta non so con quanta verità che Paolo V stava lavorando nel suo ufficio con qualcuno improvvisamente si alza va alla finestra e dice che la flotta cristiana ha vinto all'epoto ha detto che ha avuto questa visione allora non c'era i telefonini non c'era nessun altro mezzo di comunicazione lui dice questa cosa se è vera perché ho qualche sospetto che il racconto sia così l'hanno fatto anche santo e poi sull'epanto si è sempre sottovalutato un fatto che la sconfitta turca ha comportato una conseguenza cioè i turchi nel loro arsenale potevano ricostruire in un breve tempo un'altra flotta ma non potevano in un breve tempo sostituire gli amiragli e gli uomini perché c'era bisogno di un'esperienza che non potevano avere e per circa un centinaio di anni dopo l'epanto i turchi non si muovono più in acqua proprio come conseguenza della perdita della battaglia per quanto riguarda poi il trattato fatto con i franchi del Doge è stato annunciato e firmato nella chiesa di San Marco e i baroni francesi dovevano l'anno successivo tornare e trovare pronte le barche solo quando arrivarono dichiararono che non c'erano i soldi va bene ci mettiamo d'accordo lo stesso e chiesero allora i veneziani visto che i francesi non erano in condizione di pagare di riconquistare Zara che gli ungheri ci avevano portato via e fu così si arrivò poi a ma furono anche scomunicati dal Papa perché andavano contro altri cristiani e allora quella non era una crociata poi li tolse lo scomunica perché conquistando Bisanzio l'imperatore di Bisanzio dice sì la vera religione è quella romana e così pacificarono la cosa no? si ricorda ecco allora adesso passiamo brevemente perché il il sol magna le ore si dice il terzo pezzo Cipro l'isola Contesa Cipro il sultano e l'isola Contesa l'isola di Cipro faceva parte dello stato da mar della Serenissima Repubblica dal 1489 da quando cioè Venezia se l'era fatta consegnare dalla regina Caterina Corner una veneziana Cipro era diventata latina nel 1192 ai tempi della terza crociata Feudo dei Lusignano l'ultimo re di questa dinastia Giacomo II aveva sposato la giovane e bella figlia della famiglia veneziana dei Corner che aveva grandi interessi economici e commerciali sull'isola quando Giacomo II muore nel 1473 la corona passò alla vedova e Venezia intuì di avere un'occasione irripetibile per impossessarsi di Cipro a quell'epoca la Serenissima era una superpotenza e quello che voleva lo otteneva Caterina Corner non avrebbe voluto abbandonare i suoi sudditi ma alla fine fu costretta ad abdicare e Venezia fece uno dei migliori affari di sempre ottenendo la terza isola del Mediterraneo in cambio di un castello e di una collina in quel di Asolo a Cipro si coltivavano canna da zucchero e vigne ma l'isola era strategica per le rotte commerciali verso Alessandretta da cui partivano le carovane per Aleppo Damasco e verso Beirut il ricco possedimento veneziano era a pochi chilometri dalle coste turche e si prestava anche a garantire la via marittima per raggiungere la Mecca e per il quale Venezia pagava un tributo annuo ai turchi di 8.000 ducati non è quindi un caso che gli ottomani la volessero a Costantinopoli la corte del sultano Selim II era divisa tra i pacifisti che facevano capo al gran vizir Sokolu Mehmet e il partito della guerra che faceva riferimento a Joseph Nasi banchiere ebreo di origini portoghesi che aveva vissuto a Venezia da dove era stato allontanato perché ritenuto una spia del sultano Nasi era entrato nelle grazie di Selim e riuscì a prevalere sulle posizioni pacifiste all'inizio del 1570 risultò chiaro che ci sarebbe stata la guerra per riconquistare Cipro gli ottomani mobilitarono tutta la loro potenza lo sbarco iniziò il 2 luglio 1570 il veneziano Nicolò Dandolo luogotenente di Cipro invece di affrontare i turchi sulla battigia decise di rinchiudersi a Nicosia e aspettare gli nemici che sbarcheranno con 60.000 uomini Nicosia cadde il 16 agosto poi caddero anche Limassol e Larnaca con la popolazione ortodossa in gran parte ben disposta verso gli ottomani sei giorni dopo il 22 agosto iniziò l'assedio di Famagosta la resistenza della roccaforte veneziana sarà lunga e accanita ma alla fine un anno più tardi la fortezza si è rese con la promessa da parte del comandante generale turco Lala Mustafa che sarebbe stata salva la vita del comandante veneziano Marcantonio Bragadin e dei suoi uomini così però non sarà durante la cena i comandanti veneziani furono a sorpresa legati e arrestati a Bragadin furono subito mozzate le orecchie e poi costretto ad assistere allo scempio dei suoi compagni il 17 agosto si compiva il martirio del Bragadin prima essato sull'antenna d'una galera e tenuto a lungo sospeso poi portato a colpi di bastone sulla piazza di Famagosta e legato alla colonna dei supplizi dove il carnefice iniziò a levargli la pelle finché dopo che gli ebbero scorticato il busto e le braccia Bragadin morì la sua pelle riempita di paglia fu issata sulla galea di Lala Mustafa insieme alle teste di altri veneziani i trofei furono mandati a Costantinopoli solo qualche anno più tardi un marinaio veneziano trafugherà la pelle di Bragadin riportandola a Venezia dove oggi si trova nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo Gian Paolo Borsetto chiedo scusa la pelle di Bragadin è stata rubata da Polidoro da Verona che lavorava dentro in arsenale turco e di corsa è stata portata al porto dove una galea veneziana è partita immediatamente e la pelle quando è arrivata a Venezia è stata sistemata all'abbazia di San Gregorio solo intorno al 1900 credo la pelle è stata portata dove si trova attualmente a San Giovanni e Paolo perché ha fatto tutto il periodo dentro a San Gregorio quindi le guerre di una volta erano non solo guerre e moriva gente ma erano guerre crudeli erano? guerre crudeli Damiano Fusaro non credo che le guerre di oggi siano meno crudeli insomma che oggi abbiamo delle dosi di crudestà non da poco mezzi diversi non hai torto perché io ricordo la stessa cosa che succedeva in Afghanistan dove gli afghani nella guerra contro la Russia quindi siamo nel secolo scorso facevano le sottane ai prigionieri russi cioè li spellavano e li facevano una sorta di sottane spellavano il torace la schiena e le braccia e poi le lasciavano andare liberi finché morivano per i fatti loro quindi hai perfettamente ragione prego sì oltre a questo abbiamo già detto su Famagosta la crudeltà della cosa da sottolineare di del sultano Selim secondo che è allora in teoria non doveva essere lui l'erede perché il primo genito era un altro era morto poi lui era il figlio di una schiava poi diventata moglie di il magnifico e soprattutto per chi era dalla sua parte era Selim il biondo ma per i detrattori era Selim l'ubriacone che nel mondo musulmano essere conosciuto come l'ubriacone era certo una cosa completamente contro e Selim secondo tra l'altro a differenza del padre che appunto era saggio come si è detto giustamente prima Selim era completamente impreparato e si è fatto in modo che potesse arrivare al al trono anche perché era probabilmente l'utile idiota che avrebbe potuto garantire e favorire il partito della guerra ma neanche i re di Cipro erano stinco di santo perché l'erede al trono non era lui doveva essere la sorella e lui ha fatto in maniera di eliminare la sorella per diventare lui poi una congiura di corte l'ho ucciso e Caterina è diventata regina Carlotta di Lusignano e Caterina Cornaro si è vista avvelenare il marito e si è vista avvelenare i figli maschi per cui è andata a Venezia a donare l'isola di Cipro dicendo forse è meglio che mi metta sotto la protezione della Repubblica prima di finire male anch'io poi volevo dire un'altra cosa su Selin II Selin II l'ubriacone di nome di fatto perché beveva abbondantemente contro la religione ed era anche un gran donnaiolo tutti i vizi possibili e immaginabili della bella vita cortigiana li aveva ma soprattutto era sobillato da quel mercante ebreo diventato suo gran visir nasi il quale aspirava a diventare lui re di Cipro e si era fatto promettere di essere lui re di Cipro addirittura alcuni sostengono che l'incendio dell'arsenale famoso sia stato organizzato dal nasi attraverso delle conoscenze veneziane che aveva nel mondo ebraico per cui sono riusciti ad entrare in arsenale da fuoco le polveri e quindi fosse organizzato non accidentale il famoso incendio dell'arsenale quindi c'erano servizi segreti anche a Venezia contro il Selim II aveva il suo gran visir che tutti i giorni nell'orecchia diceva devi prendere Cipro che è tuo e devi darlo a me che poi io ti faccio il tuo re attendente e metto fine anche agli atti di pirateria che arrivavano da Cipro protetti da Cipro e dal porzo di Farmagosta eccetera sui traffici commerciali musulmani c'è anche una motivazione economica dietro a questo fatto perché era una porta aerei piantata verso l'Oriente da dove era assai agevole intercettare i commerci anche di shabeki piccole cose saccaleve musulmani che facevano i loro commerci vedete io ho avuto tra le mani la dichiarazione di guerra turca quando è stata presentata in senato ho avuto il documento sì l'ho letto con una grande emozione prego quello che però mi ha emozionato è stata la risposta che in quel momento è stata data e che ve la leggo la giustizia ne darai a spada per difendere i nostri diritti e Dio è so santo aggiunto per resistere quella ragione e quella forza a vostra ingiusta violenza questa è stata la prima risposta data nel senato alla richiesta turca la realtà di Venezia diciamo è stata espressa chiaramente e quindi non si sarebbe mai sottomessa anche perché teniamo presente che quando Venezia costruisce la flotta Venezia è una zona segreta non c'è accesso a Venezia l'accesso a Venezia viene controllato e le persone che entrano a Venezia devono essere controllate quindi l'imperatore musulmano non si rende conto cosa sta facendo Venezia e non lo sa poi si troverà di fronte una flotta che lui stesso non riusciva cioè non aveva previsione era un ubriacone gli avevano raccontato la storia dell'orso lui ci ha creduto e ha perso e il nazi che l'arsenale era fuori combattimento perché aveva preso fuoco e che quindi poteva invadere facilmente perché i veneziani erano senza flotta cosa non vera ecco diciamo una cosa che il programma dell'imperatore era arrivare a Venezia d'altro canto i rematori uscivano invece da una cittadina vicina a Venezia che era Chioggia i Chioggiotti erano i grandi rematori i rematori non erano schiavi come sotto la i Bonavoglia non erano schiavi sì gli altri erano schiavi relativamente avevano la possibilità anche di commerciare i rematori e avevano un loro diciamo un piccolo comodino dove dormivano che potevano riempirlo con le cose che naturalmente nel commercio riuscivano a comprare e poi vendere liberamente a Venezia senza pagare il Dazio senza pagare niente quindi e c'era una classe di rematori perché i rematori erano abili non erano soltanto schiavi Venezia non ha questa tendenza a schiavizzare da dignità anche ai rematori ma i rematori sono abili perché perché l'impero musulmano usa le vele perché non ha rematori e mettere insieme 40 rematori che regano tutti contemporaneamente in sinergia non è semplice eh bisogna avere una abilità ciascun rematore aveva abilità di come tenere il remo come girarlo come quando la nave doveva girarsi c'erano dei rematori che si fermavano e mettevano il remo in acqua fermo e gli altri continuano a remare ma è una sinergia di 40 persone non è facile provate a immaginare ci sono due cose molto interessanti sulla voga e sui rematori in galea intanto noi usiamo ancora a dire fare le cose sotto banco come dire fare una cosa che è riservata eccetera che nessuno deve vedere nascosta perché il sotto banco non è il banco di scuola è il banco di voga del rematore ed era il suo spazio a lui destinato che lui poteva mettere le merce seconda cosa oltre ai buona voglia anche i condannati alla prigione che dovevano scontare una pena a Venezia potevano scontare la pena alternativa cioè se chiestano in prigione e mangiavano a cucco e spese della Repubblica e quindi erano passivi potevano essendo pagati andare a vogare in galea e riducevano di molto la durata della pena e si riscattavano sì con sei mesi un anno di galea due viaggi due crociere estive eccetera riuscivano a recuperare tre, quattro, cinque anni di galea e quindi lo facevano tutto sommato volentieri anche se era vita dura e poi Venezia fece degli importantissimi studi sulla voga le trireme avevano tre remi sullo stesso scalmo con tre vogatori con tre remi diversi più piccoli a tre livelli diversi i veneziani scoprirono facendo le prove facendo anche delle regate delle simulazioni delle varie incidenti di battaglia eccetera che la miglior voga era quella allo scaloccio cioè un remo più grande ma con tre vogatori sullo stesso remo per cui in caso di battaglia anche se uno veniva ferito veniva colpito eccetera il remo era più robusto invece di avere un morto col remo che intralciava le manovre gli altri due continuavano a remare tirandosi dietro il morto e la nave funzionava lo stesso poi bastava che fosse uno particolarmente esperto che di solito lo mettevano il più grande il più alto eccetera il più bravo rematore di testa mentre mettevano uno più scarso e più piccolo perché era un piano inclinato nella voga eccetera non solo era una leva più lunga esatto questo tipo di voga utilizzato sulle barche veneziane cioè la voca allo scaloccio con tre vogatori sullo stesso remo con i maniglioni e il remo molto più robusto e più forte dava non solo una capacità migliore in battaglia perché in tutti gli incidenti che potevano succedere il remo funzionava lo stesso anche con uno solo anche se morivano altri due e poi perché i remi erano così più robusti e non si intracciavano a vicenda e la galea aveva un sistema di manovra a remi che era straordinario rispetto alle altre navi a remi invece ma pensiamo sempre che dovevano mettersi decine di persone in sincronia che è una delle cose più difficili e soprattutto capire il momento della manovra che tipo di manovra fare con il remo perché era il motore della barca c'era un nocchiero assai esperto che dava l'ordine c'era tutta una classe di remi comiti sopra comiti archipiuceri eccetera la funzione del nocchiero era fondamentale nella marineria venenziana perché era quello che dava gli ordini ai vogatori e addirittura per farli riposare a seconda delle necessità tu pensi che vogano sempre tutti quanti i 26 banchi no vogavano a terzi di barca se servivano che vogassero tutti vogavano tutti quanti insieme se no vogavano i quartieri di prora o i quartieri che erano divisi a un terzo un terzo un terzo e quindi ogni 12 banchi tu avevi i vogatori che vogavano e gli altri nel frattempo si riposavano è per questo che la galea non si fermava mai e fosseva navigare assieme perché aveva sempre qualcuno perché aveva le rotazioni anche cioè un meccanismo perfettamente studiato per queste funzioni bisognava di abilità marinaresca istruirli in maniera certo non solo ma incentivarli e motivarli perché se loro dicevano un avanzo di galera però io mi libero trovo la mia dignità e anche posso guadagnare qualcosa era uno stimolo per non solo ma erano anche i soldati della nave sì potevano essere usati come combattenti e sotto il proprio banco difendevano la propria mercanzia non soltanto quella del Patrizio che commerciava eccetera quindi il sottobanco gli dava difendere il proprio e poi non erano neanche in battaglia mai legati non solo i buonavogli cioè nelle galee veneziane si occorreva l'equipaggio era libero quindi sapeva che si salvava faceva combatteva eccetera faceva parte di una squadra che difendeva la nave esatto tutti dal primo all'ultimo sì allora passiamo rapidamente le conseguenze e siamo negli ultimi diciamo dieci minuti e quindi cerchiamo con questo contributo di concludere questa battaglia che abbiamo visto che raccoglie tutta diciamo la forza europea e quella musulmana e come però questa battaglia sia assolutamente inutile perché alla fine la storia è andata per conto suo ma non solo ma ci rimise molto vinse Venezia ma Venezia ci rimise molto in contributo numero 6 la notizia della vittoria di Lepanto arrivò a Roma il 22 ottobre 1571 e fu accolta con grande entusiasmo tutto il mondo cristiano e anche protestante accolsero la vittoria con grande entusiasmo in realtà le profonde divisioni politiche tra le diverse potenze cristiane in Europa avrebbe reso le conseguenze della vittoria di Lepanto ben poco importanti Papa Pio V sarebbe morto nel 1572 e con lui finì anche la Lega Santa nel frattempo lo stesso anno il sultano Selim II aveva già ricostruito una flotta ancora più forte della precedente Venezia decise quindi di scendere a patti perché la guerra stava diventando troppo onerosa più che la guerra a Venezia interessa il commercio una pace concordata è meglio di una guerra sanguinosa la Lega Santa a questo punto si sfalda i negoziati di pace tra veneziani e turchi durano oltre tre mesi e sono condotti dal Gran Vizir Socoli e dal Bailo Veneziano Marcantonio Barbaro alla fine il 7 marzo 1573 viene firmato a Costantinopoli il trattato di pace tra Venezia e l'impero ottomano Venezia rinuncia al possesso di Cipro e alla fortezza di Sopotò e deve pagare un tributo tra i 1000 e i 1500 ducati per il possesso di Zante oltre ad un indennizio di guerra pari a 300.000 ducati Venezia e i turchi continueranno a commerciare ed intrattenere rapporti diplomatici ecco Borsetto questo come finisce non vanno a Genova non vanno a Roma a trattare non vanno in Spagna vanno a Venezia perché sapevano che Venezia era piena di oro prego ed è ed è uno strano dopo una cosa strana dico dopo una vittoria dover pagare certo ma io ricordo che la saggezza di Veneziani io ricordo che quando con una galea sottile arrivò dove era ferma la flotta prima della battaglia portando la notizia di quello che era successo a Famagosta i Veneziani si buttarono dopo l'attacco gridando recordede de Famagosta per dire ricordatevi quello che è successo e si batterono come leoni in effetti è vero e quindi le trattative successive quando Venezia dopo il ritiro della Spagna era rimasta sola evidentemente non poteva senza aiuti continuare e non era non c'era altra strada che arrivare a una conclusione a un trattato che è stato aver perso Cipro dover pagare le spese di guerra che in parte sono state coperte da quello che è stato portato via dopo la battaglia le barche turche e tutto il resto in parte le vendite insomma sono andate a coprire le spese del trattato ma è strano che dopo una guerra una battaglia vinta bisognava pagare anche proprio perché siamo stati lasciati soli e non eravamo più in condizioni di affrontare una guerra una battaglia anche se la flotta turca era ridotta male non avevano uomini all'altezza di navigare però bisognava cominciare un'altra volta altre guerre e quindi si arrivò a questo Fusaro però il problema di aver venuto una battaglia voleva dire essere nemico di un impero e però Venezia avrebbe interrotto totalmente il commercio della via della seta di conseguenza attraverso i dardanelli con le navi che arrivavano fino all'attuale Georgia e non sarebbero potuti passare sarebbero potuti passare con delle navi da guerra ma naturalmente la cosa diventava impossibile quindi l'unica maniera per riuscire a riportare Venezia nell'economia precedente e fare la pace ma guarda caso che cosa ci insegna a questo in una guerra che stiamo vivendo che tante volte non bisognerebbe far parlare le armi ma con gli accordi economici perché sappiamo che molte volte sono anzi quasi sempre è il denaro che fa scatturare le guerre probabilmente ragionando di denaro si riescono a trovare gli accordi prima che con le armi e l'esempio insomma abbiamo visto l'epato è stata questa battaglia dove forse qualcuno qualche storico dice che probabilmente se i turchi non fossero usciti fuori dal golfo forse non sarebbe neanche scoppiata la battaglia insomma quindi abbiamo capito come quella battaglia fu poi raccontata abbiamo visto anche delle stampe in alcuni servizi hanno visto le stampe periodo in cui è nata la stampa è stata divulgata da morire la battaglia di Lepanto e a proposito di libri visto che siamo in chiusura ricordiamo che fra colori quali hanno combattuto a Lepanto c'è stato anche Miguel Cervantes che durante la convalescenza proprio dopo la battaglia di Lepanto scrisse Don Quixote Miguel Cervantes durante la battaglia di Lepanto fu ferito perse la mano sinistra leggenda narra che Don Giovanni d'Austria passò in rassegna le truppe e quelli che si erano erano feriti si erano contraddistinti sono durante la battaglia vada Miguel Cervantes appunto che si è stato ferito e esclamò pare secondo la leggenda abbia esclamato qual a mano Don Miguel e pare che Miguel Cervantes abbia risposto già data bene concludiamo su P.A abbiamo 5 minuti vediamo di dare una conclusione un senso a questa battaglia che poi i nostri telespettatori potranno accedere a molti libri che sono stati anche scritti per esempio Barbero ma non con questo tono che stasera abbiamo condotto noi prego allora un episodio straordinario un episodio che è nella coscienza di tutti perché non c'è persona del mondo occidentale e del mondo orientale che non conosca il nome di Lepanto c'è da dire che Lepanto esiste ancora che lì sotto ci sono ancora cimeli e navi veneziane è stata una sbagliata storiografia di studi americani che ha detto che la battaglia è stata condotta in acquefonde e che quindi era andato tutto perduto le galè eccetera no lì sotto c'è ancora molto della battaglia noi domani a Venezia porteremo una ampolla con l'acqua del mare di Lepanto e la sabbia del litorale delle curse orari dove sono stati sepolti i morti degli equipaggi i morti marinai normali e invece tutti i morti patrizi di Lepanto quelli che avevano un po' di autorevolezza sono stati seppelliti a Corfu alla chiesa dell'Annunziata chiesa dell'Annunziata che purtroppo è stata vittima di un altro grave episodio di violenza bellica perché è stata colpita da un abortamento nel 43 dei nazisti e i morti di Lepanto lì sepolti con tutte le lapidi sono tornati fuori e giacciono ancora non sepolti in dei ruderi di una chiesa la chiesa dell'Annunziata non ricostruita questo potrebbe essere un messaggio diamo l'idea di recuperare questa storia ridando sepoltura e ricostruzione di questa importantissima chiesa di Corfu distrutta durante la seconda guerra mondiale io dico che questa esperienza e questa esperienza veneziana che è nel cuore di tutti i veneziani ma anche di tutto il mondo tutto il mondo in generale tutto il mondo in generale deve insegnarci che le guerre sono guerre ma dopo la guerra bisogna ricercare la pace e che la pace è il valore vero che Lepanto ci ha insegnato non puoi sottostare e perderla perché forse se non avessero vinto la frotta della Sacra Rega e non ci fosse stato questo grande impegno veneziano e tutto quello che abbiamo riportato di una civiltà che viveva sull'acqua e che è stata in grado di vincere quella battaglia la storia del mondo sarebbe stata diversa se fossero riusciti a vincere gli ottomani e avessero conquistato non saremo qui a parlarne non saremo qui con questo senso di civiltà probabilmente le nostre mogli avrebbero tutto il burka e dovrebbero sottostare determinate altre leggi che non sono quelle della nostra civiltà allora pensiamoci in questo senso e pensiamo come in chiama moderna ricordare tutti gli anni la battaglia di Lepanto ci serva da maestra di vita sia per ricordare morti sul mare sia per ricordare una grande civiltà e sia anche per capire che i valori della pace e del commercio che non è un disvalore lo sfruttamento economico degli altri è un disvalore ma il commercio portato negli accordi fra le gestioni degli scambi commerciali è una cosa bellissima per la civiltà e per l'uomo questo ci ha insegnato la Repubblica Veneta come esempio di civiltà certo grazie allora Borsetto una conclusione che da parte sua di questa battaglia famosa la più famosa battaglia navale che sia mai esistita più che una conclusione volevo partire dall'inizio sì prego cioè prima dell'inizio della battaglia prima dello scontro quando le due flotte erano di fronte succede una cosa straordinaria Ton Giovanni con alcuni patrizi balla la gagliarda a prora della sua nave dopodiché si ritira i turchi sparano un colpo la nave ammiraglia Turega spara un colpo davanti alla nave ammiraglia della galea per non per colpirla ma solo per invitarla ad uno scontro come se la battaglia non dovesse poi doveva essere come scontro fra le due navi Don Giovanni risponde tirando anche lui davanti alla nave turca rifiutando il duello fra le due navi certamente Giovanni era il figlio per i nostri telespettatori che non ricordano non connettono era il figlio di Carlo V figlio naturale di Carlo V fratellastro di Filippo II conclusione sovrano spagnolo conclusione ritorniamo al discorso rimarcherei quel concetto di sì le battaglie ma ricordiamoci che Venezia soprattutto deve essere portatrice di pace non per niente il leone di San Marco ha porto la pace grazie grazie ai nostri ospiti un'ultima cosa sui libri oltre a Barbero ovviamente civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II di Farnan Brodel che rimane insomma il libro più importante per studiare quel periodo lì e la battaglia di Mepanto certo allora grazie agli ospiti che ci hanno molto competenti ci hanno aiutato a far capire ai nostri testatori un momento storico importante la civiltà di Venezia la necessità di fare una guerra ma anche arrivare al punto di pagare la pace è cosa che si è visto raramente e allora questo deve insegnarci molto a te Tullio certo certo allora innanzitutto ringrazio gli ospiti che sono stati con noi l'avvocato Giorgio Suppiei il professor Giampaolo Borsetto e il professor Damiano Fusaro ci hanno aiutato a conoscere anche degli aspetti veramente nascosti o poco conosciuti di un episodio epocale e prima di salutarvi come sempre ricordiamo i nostri ospiti silenziosi ricordiamo Giuliano Assange ne abbiamo parlato nella nostra rubrica del Memento e ricordiamo in particolare l'appuntamento di giovedì 13 ottobre nella sala civica Unione Europea del Comune di Ponte San Nicolò siamo in prossimità di Padova si parlerà di libertà di stampa e diritti umani il caso Giuliano Assange quindi se volete conoscerne di più saperne di più su questo caso veramente emblematico questo è un appuntamento per poter approfondire la cosa a quale noi ovviamente ci uniamo non solo approfondire ma per chiedere anche la libertà per il giornalista australiano posso un attimo interrompere io chiedo a Supiei che ha capacità organizzative di organizzare una e noi lo seguiremo in televisione una manifestazione in questo senso nei confronti di Asshaz e quindi far capire chi è questo personaggio e perché difende la nostra libertà di informazione quindi la coinvolgo sicuramente colgo al volo l'occasione di collaborazione perché è una cosa importante grazie certo e invece per quanto riguarda gli altri nostri due ospiti Aung San Suu Kyi non ci sono novità particolari ricordiamo che ormai è stata condannata complessivamente a 20 anni di carcere ed è ancora sotto processo per diverse altre accuse ma in Myanmar i giudici hanno condannato a 10 anni di carcere un filmmaker e un giornalista giapponese Toru Kubota 26 anni che era stato arrestato a luglio mentre filmava alcune proteste contro il regime è stato accusato di incitamento e di dissenso scusate incitamento al dissenso a violazione di una legge sulle comunicazioni elettroniche invece per quanto riguarda Patrick Zacchi studente egiziano studente a Bologna ricordiamo che nell'ultima udienza non è stata presa nessuna decisione in merito alla sua liberazione ma anzi è stato rinviato nuovamente il processo al prossimo 29 novembre noi chiediamo e ribadiamo informatevi noi vi teniamo informati ma cercate di seguire e dibattervi per queste figure che hanno diritto ad avere una giustizia e tornare in libertà ci fermiamo qua grazie ancora agli ospiti che sono stati con noi grazie a voi telespettatori a casa torniamo venerdì prossimo alle 21 TV7 Match parleremo di Rommel ma ne parliamo la settimana prossima grazie